Ben ritrovati allo spazio dedicato agli appuntamenti. Apriamo con un evento musicale. Sabato 11 maggio alle ore 21 presso la sala sopra Porta Sant'Agostino, in occasione del Jets Club Bergamo, si torna a un concerto in ricordo del musicista e compositore Bruno De Filippi, con Max Aloy all'armonica, Lorenzo Petrocca alla chitarra, Attilio Zanchi al contrabbasso e Tommy Baradascio alla batteria. Per tutte le informazioni consultate il sito www.jetsclubbergamo.com Sempre sabato pomeriggio, a partire dalle ore 15, in occasione del Festival Internazionale della Cultura, si svolgeranno al quadriportico del Sentierone due laboratori musicali per i più piccoli, dal titolo Mozart Bambino, Mozart per bambini, a cura dello storico della musica Mario Marcarini. L'ingresso è libero. Gli appassionati di teatro non possono invece perdersi, sabato 11 e domenica 12 al Teatro Sociale, una a due giorni interamente dedicata a raccontare i linguaggi e i meccanismi del teatro. Protagonisti, importanti attori del panorama italiano come Gabriele Vaci, Sumberto Orsini, Marco Baliani, Fabrizio Gifuni e molti altri. Si tratta di una serie di lezioni conferenza sull'uso dello spazio, del corpo e della voce. Sarà anche un'occasione per riflettere sulle difficili condizioni in cui verse il mondo dello spettacolo dal vivo. L'ingresso è libero. Gli amanti della birra, a partire da venerdì 17 per tre giorni, possono invece partecipare alla seconda rassegna dei birrifici artigianali bergamaschi, presso il castello di Cranezzo, a Dubiale di Cranezzo. Le giornate saranno accompagnate anche da buona musica dal vivo. L'ingresso è libero. Chiudiamo ricordando che martedì 14 maggio, per il ciclo I martedì sostenibili, presso il centro civico di Ciserano, a partire dalle ore 21, si potrà incontrare Giulio Cavalli, attore, regista e scrittore, impegnato nella denuncia di infiltrazioni mafiose nella politica. L'ingresso è libero.